Una proposta di legge che disciplina le attività musicali contemporanee e popolari dal vivo. Oggi se ne è parlato ad Art Lab, una bella prospettiva per il 2017. Sì, noi speriamo veramente che quello sia l'anno buono. Qualcuno diceva magari proprio in occasione della Festa della Musica del 21 giugno e non poteva che essere il Salento di ospitare una discussione sulla musica popolare e contemporanea. Il Salento è sicuramente un luogo chiave. Finalmente dare dignità a chi si occupa di musica come attività imprenditoriale e come attività culturale. Perché la musica è aggregazione, la musica ha un valore sociale, la musica ha un valore democratico ed è anche un meschiere dove ci sono tante persone che lavorano e che hanno bisogno di diritti, di garanzie e di una prospettiva di sviluppo.